Aver venduto cani meticci provenienti dalla Romania spacciandoli come animali di razza maltese è l'accusa che la procura di Perugia contesta ai due indagati residenti nel capoluogo Umbro, cui è stato notificato l'avviso di conclusione delle indagini. Accertamenti svolti dal personale dei servizi veterinari della USL Umbria 1, UOS Randagismo, con il supporto dei carabinieri del NAS. Dalle indagini è emerso che i due avrebbero importato dalla Romania almeno 17 cuccioli di nemmeno 12 settimane di età, poi venduti per origine e provenienza diversa rispetto a quanto dichiarato agli ignari acquiretti. Attraverso una presunta falsa attestazione di provenienza, gli indagati, uno veterinario e l'altro proprietario dei cani, dichiaravano che i cuccioli acquistati in Romania venivano identificati come italiani e di razza maltese. Per gli investigatori in realtà si trattava di cuccioli di provenienza romena e metici, poiché senza documento di riconoscimento associato agli animali di razza, il cosiddetto pedigri. Con la notifica dell'avviso della conclusione delle indagini preliminari, per le quali la procura non ha ritenuto di dover procedere ad archiviazione, gli indagati potranno presentare, anche per il tramite dei rispettivi legali, documenti a sostegno delle proprie tesi difensive, chiedendo di essere sottoposti ad interrogatorio. Grazie a tutti.